Siamo con il portiere dell'Equador, Macellari. Vittoria per 2-0 che porta la squadra in semifinale. Come è andata la partita? Come l'hai vista? Benissimo, io i ragazzi li amo perché danno tutto in campo. E' questo quello che vogliamo fare, vogliamo giocare a pallone. E diamo sempre il 300% su ogni pallone, su ogni cosa, i risultati si vedono. Siete stati aggressivi dal primo minuto, avete segnato subito, poi però non vi siete fermati. Sempre pressing alto, aggressione veloce insomma. Il risultato non ci basta mai, vogliamo sempre fare un gol di più, un gol di più, un gol di più. Lo cerchiamo, lo vogliamo, giochiamo bene, siamo affiatati, siamo una bella squadra, proprio belli. E adesso per la semifinale che sensazioni hai col Paraguay? Vogliamo vincere, a noi ci interessa l'obiettivo finale. Grazie, complimenti.